Questo è un bicchiere di carta che ho comprato nel 1977 ed è un bicchiere con sopra le facce dei Kiss. C'era il set completo ma sono riuscito ad avere solo questo. Questo bicchiere ha una storia. I bicchieri sono stati in commercio un giorno solo perché i Kiss non avevano approvato l'idea. Andai a cercarli alle due del mattino e riuscì a prendere questo. Tornai poche ore dopo e li avevano già ritirati. Questo ce l'ho dal 1977.